e ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di un tema molto ampio enorme mi focalizzo sul discorso del tatuatore e del cercare di capire se il tatuatore effettivamente è un artista è qualcosa di complesso partiamo innanzitutto dalle mie idee ovviamente tutto questo video è basato su un'idea soggettiva e personale mia comunque diciamo secondo me nel mondo del tatuaggio non siamo tutti artisti vado diritto al punto è semplice è ovvio essere tatuatori innanzitutto cosa vuol dire vuol dire avere l'attestato nel mio mondo rientri nella sfera dei tatuatori quando tu lo fai quotidianamente per me il tatuatore della domenica o il tatuatore che ha fatto qualche tatuaggio ogni tanto il tizio che si improvvisa non è un mio collega è semplicemente una persona che prende i miei strumenti e prova a fare in modo maldestro quello a cui dedico la vita io e altre persone che come me dedicano tutto per quel lavoro detto questo non vuol dire che secondo me se fai il tatuatore tutti i giorni come lavoro sei un artista perché qui inizia ad essere già un discorso diverso essere un artista è qualcosa di molto sfumato di molto poco preciso è poco precisa l'arte è poco preciso il mondo in cui viviamo figuriamoci se non se deve essere precisa una definizione però di base la distinzione secondo me è quasi semplice esistono gli artigiani tatuatori e gli artisti tatuatori sono due cose ben diverse ci sono tantissime persone che fanno questo lavoro per passione sono pieni zeppe di tatuaggi amano il mondo del tatuaggio amano quello che fanno ne fanno dieci al giorno sono super dentro questo mondo però secondo me secondo la mia diciamo iper personale opinione non è detto che siano artisti anzi la maggior parte per me non lo sono e dico questo perché secondo me sono degli artigiani e mi riferisco a quelle persone che hanno scelto di seguire questa passione con la loro più totale devozione così quanto me o magari anche più di me non lo so però di base sono più esecutori secondo me sono più artigiani sono persone che fanno un lavoro manuale in maniera sicuramente spero impeccabile insomma diciamo può essere bravo quanto vuoi può essere costante quanto vuoi ma poi non essere un tattoo artist perché magari fai tutto quello che ti dicono i clienti quindi non hai una tua personalità che metti nei disegni non hai una tua visione non hai una tua prospettiva che è proprio quello che invece fa la differenza tra te e un artista mi riferisco a un te ideologico che magari fai la scritta che ti chiede il cliente fai il disegno che ti chiede il cliente fai tutto quello che ti chiedono i clienti quindi un giorno fai old school un giorno fai un lettering un giorno fai un maori è quello che capita quasi tutti anche a me io non faccio un unico stile faccio diversi stili e questo fa di me una persona che non è un artista fa di me un artigiano ancora però quello che possiamo fare se vogliamo diventare artisti se qualora è il nostro obiettivo non è per forza detto che dovete volere essere degli artisti fare un unico stile magari vi annoia fare un unico stile un'unica cosa lanciare un unico messaggio un preciso modo di lavorare magari vi annoia volete fare tante cose diverse ed è giustissimo che voi scegliate ciò che è meglio per voi io personalmente però adesso parlo un po in maniera personale quindi questa parte sarà sicuramente molto autoriferita io personalmente ho scelto di fare il tatuatore non mi è capitato io ho scelto di fare il tatuatore la maggior parte dei tatuatori credo che si sono indirizzati in maniera prepotente verso questa direzione non è che ti ritrovi con una macchinetta per tatuare in mano e ti ritrovi anni a tatuare lo fai perché scegli di farlo io ho scelto di farlo per un motivo ben preciso ero ad architettura stavo studiando diciamo cioè si stavo studiando però avevo questa forte lotta dentro di me perché studiando architettura stavo studiando storia dell'arte contemporanea studiavo sì architettura ma non studiavo gli architetti che lavoravano al comune che facevano le villette a schiera quando studi storia dell'arte contemporanea riferita ad architettura studi ovviamente le archistar quindi gli architetti che fanno gli artisti e quelli sono il 2 per cento degli architetti l'architetto comunemente detto che noi abbiamo in testa come idea l'architetto quando pensi all'architetto pensi al 98 per cento degli architetti cioè il tizio che ti fa la casa come tu gli dici come tu gli consigli magari lui da una mano a farla bene a darti consigli a fare cose però di base l'architetto è quello invece l'architetto che ci facevano studiare a noi era l'archistar quindi era renzo piano era mis banderò erano le corbusier sono quegli artisti che facevano gli architetti che è diverso è proprio la differenza che vi dicevo prima non erano artigiani erano artisti erano persone che davano la loro visione nel mondo dell'architettura io lì in quegli anni ho detto io non voglio fare l'architetto artigiano io voglio fare l'artista mi sono reso conto che l'architettura non era il mio mondo mi sarebbe piaciuto di più per esempio il design ma non ero entrato a design industriale comunque il ragionamento era mi sono ritrovato che stavo percorrendo una strada che non era la mia era vicina a quello che volevo fare io ma non era precisamente quello volevo provare a fare arte a mettere la mia visione delle cose nel prodotto che rilasciavo alle persone ma volevo avere il controllo di tutto quello e viste le carte in mano che avevo il tatuaggio già mi stava interessando già mi ero avvicinato al mondo del tatuaggio insomma avevo già cominciato a prendere informazioni ma in maniera quasi disinteressata nel senso non pensavo che veramente sarebbe diventato il mio lavoro però avevo capito che il tatuaggio poteva essere il mio biglietto da visita per l'ingresso nel mondo dell'arte per l'ingresso nel mondo del scegli tu cosa fare scegli tu quale visione dare a quello che ti chiedono le persone quindi sì sottostare alle commissioni dei clienti devi farlo sempre se vuoi farti pagare soprattutto nelle fasi iniziali però piano piano puoi prendere i tuoi spazi se vuoi puoi dare la tua visione e qui si chiude il cerchio qui torniamo a parlare in maniera più ampia puoi cominciare come artigiano devi cominciare come artigiano io sono stato costretto a cominciare come artigiano e dei lavori che facevo la maggior parte il 90 95 per cento 99 per cento dei lavori che facevo i primi anni erano commissionati cioè il cliente mi chiedeva x io dovevo fare x provavo ogni tanto a dare una mia visione ma poco si poteva scostare da quello che mi chiedevano magari sempre di più col passare del tempo e quindi diciamo da artigiano secondo me si può diventare artista si diventa artisti se si vuole e io è come se mi rendo conto che sto un po facendo questo percorso che è un percorso molto lungo cioè chi diventa artista cioè che impone la sua visione del mondo dopo due anni che lavora e io invece mi sento in una fase lunghissima nel quale sì sto diventando artista però mentre voglio dare la mia visione del mondo mentre voglio esprimermi capisco che devo anche ovviamente far quadrare tutto quindi gestire lo studio gestire clienti tutto quello che devo fare avere una vita privata diciamo non è facile far quadrare tutto però mi rendo conto che la linea di tendenza si avvicina sempre molto di più verso diventare un artista che il rimanere un artigiano quindi io più passano gli anni più impongo ai miei clienti ai miei amici alle persone che si vengono a tatuare da me una mia visione però dico la parola impongo anche se forse non è adatta non è non rende giustizia perché non è un'imposizione anzi le persone mi pagano per avere una mia visione di quel soggetto per avere un lavoro fatto da me con la mia mano stessa cosa vale per chiunque altro tatua non è che sono l'unico che fa questo anzi vi ripeto c'è chi lo fa in maniera migliore di me in molto meno tempo però l'importante è che se vuoi fare questo puoi farlo anche tu quindi piano piano dall'essere un artigiano e fare solo quello che ti dicono i clienti puoi sviluppare un tuo modo di lavorare un tuo stile e portarlo all'attenzione di sempre più persone una cosa sì banale però è bello percorrere insomma questa strada perché mi sento libero mi sento libero nonostante passo la mia giornata chiuso dentro questo studio nonostante sto le ore fermo davanti un disegno davanti l'ipad davanti il guardare i lavori degli altri e quindi quello che agli occhi di altre persone può essere un lavoro banale palloso fermo e magari ti vedono sempre lavorare dicono cavolo non c'hai vita sociale non hai ovviamente sul discorso vita sociale ognuno si rapporta come vuole io cerco diciamo di vivere anche un po di vita sociale non essere totalmente recluso come facevo magari prima agli inizi che invece ero molto più veramente chiuso adesso cerco di uscire di più di comunque sì avere il fine settimana libero per fare cose però in generale è una vita che vista dall'esterno può sembrare molto reclusa ma soltanto chi fa arte o punta a fare arte capisce cosa vuol dire stare chiuso in quattro mura ma essere la persona più libera dell'universo quindi è qualcosa di molto bello e che se anche voi volete fare da tutorial se voi siete semplicemente appassionati dell'arte in generale vi piace magari ascoltare discorsi del genere mi piacerebbe che lasciaste anche voi magari un commento qua sotto riguardo magari una vostra esperienza magari voi fate i barman vi piace avete questa passione e raccontatevi un po la storia che avete qualcosa riguardo non lo so magari lasciate un commento se volete e ne parliamo qui sotto però ci tenevo tanto a parlare di questa cosa e secondo me ecco tornando al tema cardine del video il tatuatore è un artista la risposta è dipende e la risposta secondo me è il 2 per cento sono artisti dei tatuatori 2 per cento ovviamente numero simbolico giusto per farvi capire che secondo me è in maniera pesantemente sproporzionata la quantità di artisti e di artigiani presenti all'interno del mondo del tatuaggio e questo non vuol dire che se fate ogni stile siete stronzi non vuol dire che vi sto criticando vuol dire semplicemente che sto dicendo che c'è una differenza tra fare lavorare quasi esclusivamente per commissione e lavorare quasi esclusivamente per con lavori personali cioè che la gente ti paga per avere addosso un tuo lavoro nato da te progettato da te che magari loro hanno dato al massimo un input un'idea un qualcosa di partenza o a volte anche niente quindi parte quasi tutto da te e è secondo me ed è per me quello che voglio raggiungere sempre di più riesco a fare a volte in maniera totale su alcuni clienti in maniera intermedia su altri magari si ragiona insieme ed è bello anche quello e non lo riesco a fare quando mi chiedono ecco maori un geometrico qualcosa che non è il mio stile me lo chiedono ancora lotato in maniera assolutamente senza problemi perché comunque sia avere uno studio di tatuaggi vuol dire anche questo quando un giorno sarò pronto a rifiutare ogni lavoro che non voglio fare lo farò al momento cerco di rifiutare soltanto una parte molto piccola dei lavori che mi chiedono la quasi totalità li prendo e ne sono felice se volete portare una vostra visione studiate lavorate sodo imparate la tecnica imparate proprio l'arte in generale lo studio dell'arte lo studio delle tecniche di disegno e di tatuaggio e poi piano piano cominciate a metterci della vostra personalità all'interno della tecnica del tatuaggio quindi io non mi sento un artista puro non faccio l'artista puro perché vedo continuamente le mie lacune di disegno e di tatuaggio e quindi cercando di migliorare quegli aspetti non mi butto mai a fare totalmente un discorso artistico in maniera costante consecutiva e senza nessun minimo freno diciamo per fare quello dovrei veramente rinunciare a moltissimi lavori che mi chiedono dovrei rinunciare a moltissime cose che faccio e chiudermi e fare specificatamente un'unica cosa un unico stile e lavorare sotto su quello come fanno tantissimi artisti famosi che sicuramente seguite su instagram che fanno un unico stile preciso quello è il mio personale obiettivo cioè focalizzarmi e avere una personalità artistica riconosciuta ma non ho fretta nel raggiungere quell'obiettivo perché potrei farlo già da ora potrei averlo fatto anni fa se volevo chiudermi in uno stile e fermarmi a quel livello tecnico o comunque si avrei potuto fare un determinato stile studiare per evolvermi e poi cambiarlo però è veramente complesso gestire ogni cosa e quindi il tempo a disposizione la mia capacità di disegno e di tatuaggio mi ha portato ad essere quello che sono oggi ne sono felice anche se non sono famoso anche se non sono un tattoo artist che gira il mondo diciamo sono comunque sia soddisfatto di quello che faccio perché come dicevo prima dentro quattro mora quando disegno quando lavoro sto in pace col mondo ed è la cosa più impagabile che faccio nel senso è quello l'obiettivo mio primario cioè lo stare bene con me stesso con quello che faccio con il lavoro che ho e poi di pari passo c'è il discorso delle espressioni quindi sicuramente voglio comunicare al mondo voglio comunicare meglio di come faccio ora ma non ho fretta e mi auguro che anche voi lavoriate sotto per affermarvi come artisti come persone che vogliono fare magari un determinato lavoro in modo artistico diciamo mi auguro che voi diventiate sicuramente più artisti che artigiani perché come dicevo prima non faccio una critica diretta però io preferisco diventare un artista perché l'artigiano tendenzialmente a un una paga media perché quello che fa lui è quasi rimpiazzabile mentre se sei un artista non sei rimpiazzabile diciamo un conto è fare le scarpe a mano un conto ad essere un artista delle scarpe fatte a mano quindi le tue scarpe costeranno dieci volte di più di quelle fatte a mano in generale non mi voglio ripetere nei ragionamenti fatti prima sicuramente è un discorso che come dicevo a mille buchi non è troppo lineare però spero che un po vi possa essere interessato come ragionamento così a ruota libera lasciatemi dei commenti qui sotto sicuramente potrei ampliarlo e parlarne ancora in altri video se vi possono piacere i video del genere noi ci vediamo in un prossimo appuntamento iscrivetevi al canale se siete qui e fate buona giornata ciao